Prendo spunto da questo messaggio perché me ne arrivano parecchi i produttori di qualsiasi tipo agroalimentare, da vini a birre, prodotti dolciari, paste, salse, eccetera, che cercano di espandere il proprio mercato vendendo negli Stati Uniti d'America. Una cosa che dovete comprendere è che prima di tutto dovete avere i requisiti per poter vendere negli Stati Uniti d'America. Quindi, prima domanda, l'FDA ce l'hai? Perché se non hai l'FDA è inutile che cerchi chi possa vendere il tuo prodotto all'estero, perché non lo puoi vendere. E non è corretto dire, beh, prima vedo se c'è qualcuno che me lo vende e poi cerco l'FDA. No, non funziona così. Prima hai l'FDA, prima hai i requisiti e poi la gente ti prende in considerazione per poter vendere il tuo prodotto. Secondo, non funziona con cerco il distributore del mio prodotto, perché vendere un prodotto nuovo in un mercato dove non eri presente comporta dei costi di marketing e di pubblicità. Marketing e pubblicità significa promuovere il prodotto facendo delle fiere, organizzando degli stand all'interno dei ristoranti, dei supermercati, eccetera, inviando campioni gratuiti, insomma promuovendo un prodotto che nessuno conosce. Tutti questi costi sono a carico del produttore, perché il distributore ha già dei prodotti da vendere, che vende con facilità. Per quale ragione dovrebbe investire nel vendere un prodotto che non è nemmeno suo? Quindi se volete vendere negli Stati Uniti, prima di tutto dovete avere i requisiti, quindi possedere l'FDA e avere un capitale da investire in marketing e promozione. Vi faccio un esempio tecnico. Alcune case vinicole che vogliono iniziare a vendere il vino negli Stati Uniti d'America, mettono a budget una somma che viene utilizzata per presentare il prodotto nei ristoranti, organizzare cene dove vengono invitati i proprietari dei ristoranti, gli chef, per degustazioni che servono a promuovere il vino. Oppure ci sono produttori di pasta che mettono a budget dei capitali che servono poi per partecipare a fiere dove viene proposto il proprio prodotto. Quindi se cercate un semplice distributore, perdete il vostro tempo. Ricordatevi, requisiti e capitale per il marketing. Io stesso ho una società di import-export sia di vini e birre, non ancora di liquori, sia di prodotti agroalimentari. Ma questi due requisiti sono essenziali per poter intavolare una collaborazione. Vi lascio qui il messaggio con il numero perché se qualcuno volesse contattarlo può farlo tranquillamente. Un piccolo consiglio, quando lasciate il vostro numero mettete sempre davanti più 39. Se volete vendere all'estero dovete abituarvi a pensare in modo internazionale.